Ciao a tutti gli amici di Android Vlog. Motorola torna in Italia con Motorola Moto G, un nuovo terminale da 4.5 pollici, veramente concorrenziale nel prezzo, 199€ il prezzo di listino per la versione da 8GB, acquistabile sullo store di Amazon o presso i rivenditori italiani della catena Euronics. Lo trovate anche negli store di Amazon stranieri come quello inglese, tedesco o francese a un prezzo inferiore. Ma veniamo all'unboxing, all'interno del package di spedizione abbiamo trovato questo caricabatterie con presa italiana tra l'altro, nonostante appunto questo telefono venisse spedito dalla Germania, probabilmente la presa è sicuramente la stessa, perché questa confezione non contiene l'adattatore di rete. La confezione è molto molto sottile, veramente una delle più piccole e compatte che abbiamo visto. Veniamo quindi all'unboxing, vediamo cosa c'è all'interno. Allora è il telefono, quello qui lo vediamo più avanti. Dentro proviamo un cavo USB, micro USB, bianco, manualistica, ovviamente in tedesco ma probabilmente c'è anche una traduzione inglese all'interno. Amazon Italia appunto come dicevo commercializza la versione tedesca e devo dire non c'è nient'altro. Infatti Motorola probabilmente con questo dispositivo si è voluta concentrare più che altro sul prezzo più che sulla dotazione. Niente auricolari, niente accessori di nessun genere. Come vi dicevo il prezzo è veramente concorrenziale, noi abbiamo preso la versione da 8 giga, quindi ha 199€ dallo store di Amazon italiano. È in vendita anche una versione da 16 giga che costa circa 30€ di più, 2,29€. Cosa vi dico su questo telefono? Monta Android 4.4 ma si sente già che appunto il rollout della versione 4... Monta 4.3 scusate, ma appunto come vi ho già annunciato la 4.4 è in rollout. Il display come già detto è da 4.5 pollici 1028x720 pixel di risoluzione, quindi uno schermo HD Ready, 329ppi di densità di pixel. La dotazione hardware. La dotazione hardware prevede un Qualcomm Snapdragon 400 da 1.2 gigahertz quad core. Fotocamera posteriore da 5 megapixel con la possibilità di fare, di registrare video a 720p in HD. In realtà sia per quella posteriore che per quella frontale c'è questa possibilità, quindi ottimo per quelle che sono videochiamate o chiamate Skype. Tornando a quella posteriore, la fotocamera è da 5 megapixel per il formato 4.3 ma ha la possibilità di registrare o comunque di scattare fotografie anche in 16 noni, quindi questa fotocamera vi permette di fare ecco anche di avere a disposizione un secondo formato che però riduce megapixel a 3.8. Flash LED più 4x di zoom digitale. Questa fotocamera tra l'altro ha anche la possibilità di fare lo slow motion video per chi può interessare oltre che il panorama, il tap to focus e l'HDR. Torniamo alla fotocamera frontale da 1.3 megapixel, come vi dicevo registra a 720p, quindi HD Ready, non male. Le dimensioni di questo telefono, beh, lo vedete. Telefono compatto, 4.5 pollici di display permette di raggiungere bene o male quasi tutti i punti con una mano, tenendo le mani. Sì, devo dire che è veramente la dimensione giusta, almeno per me. Parliamo di dimensioni, quindi 129 mm l'altezza mentre sono 65.9 i millimetri in larghezza, una profondità variabile, 6 nella parte più sottile andandosi ad allargare fino a 11 mm di spessore. Appunto come spero possiamo vedere anche voi, lo spessore è variabile, infatti, è curvo nella parte posteriore. Il peso di soli 143 grammi ci assicura in mano un telefono veramente leggero, veramente leggero che devo dire si riesce a tenere tranquillamente con una mano e a maneggiare piacevolmente. materiali buoni, discreta anche la cover liscia dietro, tra l'altro è una cover removibile, anche se all'interno ha una batteria che non è removibile. Rimuovendo la cover, infatti, vediamo la batteria. La cover è in policarbonato, quindi facendo un po' di... sforzando un po' ecco, riusciamo ad aprirlo. All'interno abbiamo soltanto il vano per l'alloggiamento della micro sim. Vi dicevo appunto la batteria è presente, si vede, dovrebbe essere qua sotto in pratica, è coperta da questa plastica, ma non è removibile. lo accendiamo, facciamo un first boot. Nel frattempo vi dico che nella parte superiore è presente il jack da 3.5 pollici, nella parte inferiore abbiamo il connettore micro usb e il microfono, liscio il lato sinistro, sul lato destro il tasto di accensione e spegnimento e bilanciare del volume. Ecco è partito. Andiamo nelle impostazioni e verifichiamo le info sul telefono. Come vi dicevo la versione è la 4.3 Jelly Bean, ma come vi ho già anticipato, ecco è in distribuzione la 4.4 di KitKat. Non è ancora arrivata sul nostro dispositivo. Molto fluido. Vi lascio quindi con ecco il rendering della nostra parte. Un saluto.